ciao a tutti oggi facciamo una ricetta molto gustosa un kebab alla turca vedo gli ingredienti per quattro persone ci vorranno 400 grammi di carne trita macinata magra un po di prezzemolo un cucchiaino di aglio in polvere uno di cipolla in polvere e uno di paprika dolce sempre in polvere poi ci vorrà un bel cucchiaio di concentrato di pomodoro se vi piace del pepe nero e ci servirà un bel peperone rosso un peperoncino piccante ma è facoltativo un paio di spicchi d'aglio e una bella cipolla e poi sempre lui il nostro ingrediente segreto procediamo tritiamo finissimamente le nostre verdure e il prezzemolo al lavoro ecco fatto aggiungiamo le spezie aggiungiamo anche lui il nostro ingrediente segreto il concentrato di pomodoro e prima di aggiungere la carne gli diamo una bella mescolata aggiungiamo anche la carne e impastiamo il tutto ecco fatto bello mescolato adesso chiudiamo il contenitore e lo mettiamo in frigo a riposare almeno tre ore adesso che ha marinato dividiamo l'impasto in quattro e nel frattempo scaldiamo una piastra con l'impasto prepariamo quattro chiamiamole polpette che metteremo sulla nostra piastra e le faremo cuocere su entrambi i lati sentirete come sono saporite malgrado non ci sia neanche un pizzico di sale schiacciatele mentre le cuocete così perdono l'acqua che le verdure avranno rilasciato appena saranno asciutte le impiattiamo ed eccola impiattata la nostra saporitissima polpetta turca vi svelerò l'ingrediente segreto a questo punto è un cucchiaino di semi di coriandolo tritato se preferite però potete usare magari del cumino e darà un gusto ottimo lo stesso alla nostra polpetta turca se vi è piaciuta la ricetta condividetela con chi ha bisogno di perdere peso e se vi va regalatemi un like ciao alla prossima ricetta